Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora oggi andremo a fare una cosa un po' diversa dal solito Infatti andremo a fare del bellissimo sanissimo deathmatch Per vedere appunto se le nostre skill esistono o no Soprattutto per misurarmi con gli altri giocatori in un vero e proprio deathmatch Quindi ora andremo subito a provare Ti tengo a dirvi che ho fatto una partita a scazzo prima ma non ci ho capito molto Quindi è come se fosse la prima che questa qui andremo a vedere via Ok allora ragazzi come potete vedere qui ci sono vari kit Io ho preso il primo infatti come potete vedere ho l'armatura in diamanti che è l'unico appunto ad averla E a dire il vero non so cosa cambia perché come si può vedere questo è tipo assassino Questo è mago questo è che cazzo ne so io insomma ci sono varie cose Quello lì brutto non so cosa cazzo voglio dire però Vabbè ci sono vari kit non so minimamente la differenza a parte le cose estetiche Perché ho visto che le spade e l'asce e queste mushroom Insomma le zuppe di che cazzo era mushroom Ah comunque insomma quella roba lì Ma in verità sono funghi già è vero cazzo sto a dire Comunque la zuppa di funghi ce l'hanno tutti che in teoria se ci clicchiamo sopra Ci rigenera subito tutta la vita o comunque fa tipo effetto mela dorata Ok si spona a classe praticamente come si può vedere qui Oddio Può confermare la mia teoria se qui gli altri Invece no sto dicendo una cazzata perché appunto gli altri sono sparati lo stesso qui Quindi io penso che Oh mio dio ma io ho molta vita Oh quanta cazzo Ma non svanisce ok rimane così Penso bisogna Bisogna cedere appunto i nemici che sono questi qui rossi Non c'è molto da immaginare Ora vorrei vedere Aspettate che cosa cazzo ci faccio Oh what Cosa cazzo ci ho fatto con la bottiglietta Vabbè non so cosa ho fatto con la bottiglietta ragazzi Magari se lo sapete voi Spiegatemelo perché io Certe cose proprio non le capisco Intanto qui c'è un lezzino Andiamo qua subito ad ucciderlo male Ok ce ne sono anche altri Cazzo No Uh bella bella Questa l'ho ucciso io Se vi sto in chat Eh sì mi tocca leggere la chat Perché effettivamente tipo non saprò mai quando ne killo uno e quando no Intanto Due nemici mancano cazzo Due nemici Eh noi siamo troppo più ragazzi Uh Incredibile anche questa l'ho ucciso io Ma che cazzo sta a fare le stragi Ehm Ah a parte a culo l'ho ucciso io però Cosa cazzo è sta roba Vabbè non lo so ragazzi Vi ripeto che Questa qui è la prima effettiva partita che sto facendo Che faccio E l'ho vinta così un po' a culo Dei nostri a destra si vede benissimo che Due kill per metano attenzione insieme a CS Cazzo ne so io come si pronuncia il tuo nome di merda Ok e ci danno anche le big jam facendo così Ora io dico L'ho preso il kit Ok perfetto Io a dire vero non so il senso di questo gioco qui quale sia Perché ok si ci può stare un po' di deathmatch Ma è ovvio che a livello di armatura questo qui è inistruttibile e questo sia easy Penso che questo qui quindi abbia delle particolarità Che però non conosco Ma magari se clicco il sinistro Ehm Sì ok mi dice Ah ma mi dice il livello del Ah la sword La passiva Ah c'hanno le skill praticamente Boh a me sinceramente non me ne frega molto Perché ho visto che con questo qui che è tutto full diamante Mi ci trovo bene Tutto perché Cazzo ragazzi Chi è che non si trova bene con un full diamante Cazzo Quindi Piuttosto che prendere l'assassino Che oddio ma l'assassino se tipo E' così Messo male di armatura Penso sciotti Che cazzo è la cosa più sgrava al mondo allora Scusate A parte che oddio Ma si dai non lo so Perché comunque questo qui è full diamante Quindi c'è un'armatura che porta ai veri sentimenti Quindi l'assassino con un cazzo d'armatura In teoria Secondo il ragionamento dovrebbe essere bilanciato Da qualche altro punto di vista Per essere preso Già che c'è la gente che lo prende Comunque Ehm Magari prima è stata fortuna Lo ripeto Cioè oddio Che l'ho killa che ha fortuna E' abbastanza normale Cioè è ovvio Perché effettivamente L'ho tirato una sparata E ci sono morti Però perché l'havano già uccisi gli altri Però in teoria non dovevo ucciderli così Esi Oddio quello sbaglio Perché lo lascia cuoricini a giro lui Ma che cazzo Uh ma c'è la gente con l'arco Ma magari shottano pure Oh ma questo è un nemico Cazzo si è un nemico E' anche l'assassino Quindi penso shotti Ehm Cazzo cazzo Deve andare Oh ma che cazzo fa Cos'era quella Ma che cazzo Oh 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 Cos'è 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 raga No 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 Sta Sta uccide C'è la spada C'è la spada in diamante Cazzo Bisogna aiutare Bisogna aiutare qua Ma che cazzo Raga Raga no minchia Quanto è sgravo No 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 Allora Cazzo No no Raga ma è fortissimo l'assassino Ma che cazzo è Oh l'ho ucciso però L'ho ucciso Ok perfetto Le zuppe funzionano come avevo detto io Oh perché mi sei chiuso l'inventario Oh vabbè Non le posso spostare le zuppe Ok capito Bastava dirlo Ok si rigenerano la vita Siamo rimasti in 4 del mio team Contro qua 3 del loro team Ok ce la possiamo fare Uh ragazzi Bello scatenato in questa partita Mi serve un amico Triste da dire Però ok 4 contro 2 Perché se no tipo mi perdo E io 1 contro 1 Tipo non lo voglio fare Perfetto Manca un nemico E basta Un solo nemico Non so dove cazzo sia Forse loro lo sanno Non lo so Oh è dietro di me Cazzo dietro di me Help Che cazzo No 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 Ragazzi Vabbè ok ok Ce la possiamo fare Cazzo ce la possiamo fare Sbrigiamoci Andiamoci con la violenza Che ci abbiamo nel corpo Proprio Salto perfetto No scherzo Speravo di fare il salto perfetto Io intanto cerco di tagliargli la strada Control Cazzo vai control No ok La strada gliela devo tagliare Da quest'altra parte Lo piglia nel culo così No dai Ok ok Eccolo qua Eccolo qua Lenzino Dai cazzo Uh salto perfetto Stavolta per metano Ok Perfetto vai Uh bella cazzo Bella L'ha ucciso l'altro Non l'ho ucciso io Ma va bene lo stesso Perché comunque Una sparata o due L'ho tirata pure io Quindi cazzo perfetto Ma è impossibile perdere per metano Questa è impossibile proprio Oddio Ok perfetto Sta per cominciare un'altra partita Ragazzi Veramente incredibile Questo gioco qui Mi piace Ma perché È tipo come fare Un Hunger Games Però molto più veloce Cioè Perché alla fine L'Hunger Games cos'è Tu vai a giro Trovi i nemici E li uccidi Ovviamente devi trovare pure le ceste Con le spade Qui si salta proprio il pezzo In cui tu salti Cioè vai a cercare le ceste Con la roba Qui proprio sei armato Anzi ti scegli la roba proprio E vai a spaccare i culi E la cosa mi piace tantissimo Tipo il Deathman ci ha messo così Perché non è proprio a livelli pro Come lo fanno Negli altri server Che tu c'hai il Cristo E però Cazzo no no Uh bella bella Non l'ho ucciso io ma va bene Io non punto a fare Ok No cazzo no però Stronzo Ok Uccidiamo questo qua No ma che cazzo Troppo lontano Oh si vabbè C'è la mamma Lenza No no da dove L'arco di merda Madonna Io vorrei sapere cosa cazzo fa questa bottiglia Non lo saprò mai No 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 Stronzo Stronzo Sei troppo vicino Cazzo raga Devo scappare Devo scappare Dai cazzo Mangia Mangia Corri Corri Dai corri corri No no Ragazzi no A parte i nemici erano anche troppi Dai I miei amici Sono morti tutti come schifosi Proprio Eravamo rimasti in due lezzini Uh vabbè Ci rifaremo nella prossima Via Uuu Dio se spacco i culi In questa partita Me li faccio tutti e cinque Io cazzo Tutti e cinque Comunque ragazzi Se siete arrivati fino a questo punto Fatemi sapere se questi cazzo di giochi vi piacciono Cioè Minigiochi Che Questo ragazzi Uuu Dio Si vede proprio la skill Della persona Cazzo Io ci voglio vedere Su questo video qui Cioè video Insomma Questo minigioco qui Sul canale Lo riporterò sicuramente O con dark O con dade Per chi voglio vedere Se sono ai miei livelli O sono scarsi Non lo so Quindi Ragazzotti Questo video qui Tipo Oddio Lo rivedrete Non so con chi Ma lo rivedrete Ora Voi comunque Fatemi Oh che cazzo Fatemi comunque sapere Se vi piace o no Perché Così vedo se portarlo più volte o no Intanto Mi sono rotto il cazzo di pigiare Destro e sinistro Quindi Ci vado di sinistro e basta Oh però non prendere di mira solo me Perché non sono l'unico stronzo Ok Cioè servivo a distrarre i nemici In questa partita Praticamente Perché Miravano me e basta Cioè Non lo so Ok Uno sta laggiù Ma non da lezzino Ti venga a spaccare il culo Aiuti i miei amici proprio Come farebbe un vero Ok c'è morto Sì c'è morto No non è vero Oh eccoli qui No in verità eccoli E' uno E' l'altro dove cazzo è Ma non da poverino Mi fa pena Mi ricorda me prima Questo qua Cazzo Però muorici ogni tanto Ok l'hanno ucciso Oh si è vinto Si è vinto Io sono stato Risupporto In questa partita Altro che Via Tanto Un acquittato dei nostri Vabbè poco importa Io sceglierò il kit rosso Perché mi porta fortuna E sono sicuro Che con il team rosso Andremo Alla vittoria proprio Al podio Cazzo Che al podio in verità Non penso sia il caso giusto Di dirlo Però non lo so Intanto vedo a destra Che c'è anche Perché pigliano fuoco Vabbè Non importa Se sentiranno al freddo Non lo so Vabbè L'ho scritto beacon Che in toria il beacon Dovrebbe essere Quel troietto che dà i bonus Però Non so in questo caso Cosa voglia dire Mancano due minuti e sette Probabilmente un bonus Ma Non avendo mai giocato Questo gioco Non essendo mai arrivato Troppo lontano Diciamo di tempo Cioè non l'ho mai fatto Di durare molto Questi Queste partitine qui Non so di preciso Cosa sia Comunque Non l'ho ucciso O l'ho ucciso No non l'ho ucciso Però c'è morto Non si sa come E Lui è un nemico No no È lui un amico Ehm Dove cazzo sono i nemici Uuu Ma no Ma che cazzo mi spari Sei un mio amico Progio Ok Eccolo da un nemico E lui è un amico E ovviamente Vuole andarlo a perculare E non sa come fare Poverino Stellina Ok 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 Cazzo lo devo aiutare Lo devo aiutare Cos'è sta roba Vieni qui Morici male Stronzo Stronzo Mori Mori Oh ma che cazzo fai Ma che cazzo fai lezzino Ti generi la vita E io ti picchio Sì però Cazzo laghi un pochino Allora Via Ma che cazzo Ma cos'è quella mossa del cazzo Ma perché Ragazzi ma sono dei rossi Ragazzi ma sono dei rossi Che cazzo faccio Ma che cazzo sto a fare io Raga Ma sono dei rossi Perché stavo a picchiare Io pensavo che i rossi fossero i nemici I rossi Cioè Il mio team è rosso L'ho anche scelto Ma sono l'elzo No 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 Uuuuh Scusami Ok Ti ho abbandonato un attimo Ci risuono Vediamo cosa fa questa roba qui Non lo so L'ho usata di nuovo a caso Cazzo no Infatti dicevo Ma per quale cazzo di motivo Mi sparava quello là Eh ci credo Un nemico Vediamo Madonna no Ce l'ho dietro uno Dai cazzo No 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 cazzo Se io riuscisse a trovare Il mio amico Do cazzo sarà Magari Due contro uno Diciamo No raga Uno contro uno No io non c'ho vita Cazzo no 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 Perché c'ha la spara in diamante Lui che cazzo è No raga Devo blocchittare Devo blocchittare Cos'è questo skill Dove cazzo è No raga No 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 Uh fa malissimo Si ha fatto male Ha fatto decisamente male Dai Cazzo no Però io non c'ho vita Non c'ho più i cosini per rigenerarmi Sono stato stupido all'inizio Perché Cazzo C'è andavo Contro i miei amici Non lo so Vabbè Sono un po' stupido Mmm Io mi sento lezzine In questa partita qui Tanto vediamo se ho preso il kit giusto Ok si Perfetto E sono dei rossi di nuovo Che pualle Però I rossi non so Mi confondono un po' Perché i nemici sono blu E che cazzo hai dato fuoco a me Stronzo Madonna ragazzi Ok Ah ma questa qua è semplicemente una bottiglia d'acqua Per spengersi dal fuoco Ma che cazzo è Ma siete pazzi Oh Oh ma che cazzo fai Ma sei nel mio team Ma che cazzo fai Madonna Ragazzi ma c'ho quello frocio Ma lo smetti Hai rotto il cazzo Ma tu mi ammaiala Oh Ma che stai fa Ma sei stupido Ma che c'è qualcosa contro di me Sono il modello del stesso team E mi vai contro Ma non c'ho parole Ok anche io tiravo le sparate prima A quelle del mio team Ma non li facevo danno Era una brava persona io Tanto No 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 cazzo si l'ho visto Quello dietro di me Provo ad aerare questo qui Cazzo no 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 Oddio Cazzo no No corri Corri cazzo Omino di merda Allora Tanto penso di avercelo ancora dietro Quindi mi girerò di scatto E scopro che Hanno cambiato strada No Uh uh Ma che cazzo No no via Sono troppi qua Sono troppi Cazzo sono troppi 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 E sono un po' nella merda Perché c'ho tutto il team loro dietro Vorrei sapere il mio team E dove cazzo si trova No via No 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 Non si può fa' così Non si può fa' Dove cazzo è il mio team? Oh A team del cazzo? Ho quanti c'è no dietro? Uno o due Ah ma sei da solo Lezzino Aspettate però Io No 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 Madonna che lezzo questo qua Vieni qui Vieni qui Lezzino Vieni qui Oh Perché mo' scappa? Ma eppure Dai cazzo Perché bisogna fare tutto il tempo così? O scappo io Scappi te E Tu ma il Lezza Via Alla control Ok così non mi baggo Con il salto Dai cazzo Tu vai a aiutare Oh No cazzo sei Vieni qui che ti spacco il culo E vabbè ha mangiato il Cristo lui Ha mangiato il Cristo Ragazzi questa è lunga come partita Perché sta a fare cazzi su a lui Lui Lua ho detto sì Oh ma questa è una skill potentissima Ma che cazzo No 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 L'arma l'arma cazzo l'arma Sì ok Due sparate glielo tirate tipo Ok Sì sì Continuo a dargli sparate Oh Bella Bella Non l'ho ucciso io Ma bella lo stesso E Abbiamo vinto Abbiamo vinto un po' così random Però ci può stare via Ci può stare Ok ragazzi Il video finisce qui Però che come cosa un po' diversa dal solito Mi sia piaciuta Intanto buon anno Perché oggi C'è tipo il primo No il secondo video dell'anno Questo qui Perché il primo è già uscito Qualche ora fa Però non vi ho fatto gli auguri Buon anno Quindi ve li faccio ora Buon anno Spero che il video vi sia piaciuto Ed ciao a tutti Ciao a tutti